Buon pomeriggio a tutti quanti, mi parla l'addetto stampa della Fuscina, è ora che qualcuno alzi la voce da parte della dirigenza, non ha parlato nessuno o diciamo solamente l'allenatore e il DS, è l'ora che l'addetto stampa parli e protegga la squadra, il presidente, l'allenatore e il DS, perché noi in questo campionato della Gold League non ci siamo sentiti tutelati da parte della Lega per un scarso arbitraggio e dal primo giorno e dal primo giorno dalla Summer a oggi ci sono stati tanti errori arbitrali contro di noi e non riusciamo a capire perché e poi si lamentano perché la Fuscina si arrabbia tanto, perché la Fuscina viene odiata così tanto, perché sono gli arbitri a far odiare la Fuscina, a farci arrabbiare per errori scadenti, scadenti per fare i protagonisti, per farsi due follower in più, per prendersi un applauso, perché lo schifo che si è visto ieri sera, l'hanno visto tutti, ma noi della Fuscina è dal primo giorno che dal signor arbitro Bojan ci arbitra contro, purtroppo il nostro cammino in campionato si è concluso quarto, non siamo arrivati terzi, per tanti decisioni arbitrali che ancora non riusciamo a capire onestamente, sia alla Summer, alla Winter, alla Winter ci hanno provato, però noi le avevamo messe in quel posto e siamo arrivati in semifinale, però ci sono riusciti, ci hanno provato a penalizzarci, il campionato questa volta ci hanno messo loro nel culo, perché ci hanno fatto arrivare quarti, dalla prima giornata del campionato, a oggi, partita per partita, se analizziamo partita per partita c'è un errore sempre contro di noi, non ci sentiamo tutelati da parte della Lega, ieri sera hanno messo tutti la partita, contro gli Olimpo e contro i Pegasus, contro gli Olimpo, un gol irregolare a tempo scaduto, ci hanno detto che la gott non è calcio, perché allora non è intervenuto la Lega lì, per annullare il gol, visto che l'arbitro è quello che è, poteva interminare la Lega, però la Lega non l'ha fatto e ha concesso il gol, dando il gol regolare, quello che ha dato il signor Bojan, mancavano due secondi, due secondi, una rimessa laterale, finché stoppava e tirava, era il tempo scaduto, partita persa, partita persa, rigore inventato, un rigore inventato, il signor Bojan, che è lo stesso arbitro, stesso arbitro della scorsa giornata contro i Golden Stake, che non vede, non vede il braccio di Mose che impara un tiro, un tiro, non lo vede, e vede un braccio indesistente regalando uno shout out agli Olimpo, complementi, complementi, due pesi e due misure diverse, non vede il rigore netto contro i Golden Stake, ma vede un rigore a sfavore della Fucina, lì tutti zitti, contro i Pegasus, ultima azione, c'è un tocco di braccio netto, su una giocata di Matteucci, l'arbitro fischia la fine, non ci concede la VAR, non ci concede di andare alla VAR, lui va alla VAR, dice, sì, il tocco di mano c'è, ma io ho visitato prima, invece no, perché c'è un video che dice la verità, che fa uscire Bojan per l'esima volta, falso, falso e arrogante, falso e arrogante, perché il tocco di mano del giocatore di Pegasus arriva 5 secondi prima del fischio, però lui non ce l'ha concesso, poteva essere una punizione pericolosissima, ricordiamo che le punizioni alla God League a calcio 7, è come battere un calcio di rigore. Noi purtroppo, per queste decisioni arbitrali, siamo arrivati i quarti, purtroppo noi dal primo giorno del campionato, togliendo la Summer, la Winter, dal primo giorno del campionato, c'è stato un errore a partita contro di noi, non ci hanno concesso per lottare alla pari contro i Pegasus e gli Olimpo, per arrivare ai primi o secondi, perché noi ogni partita abbiamo giocato, abbiamo perso una partita, ogni partita abbiamo perso quelle partite perse di un gol di scarto, però abbiamo perso per errori arbitrali, decisioni discutibili, discutibili, non ci hanno concesso di lottare a ampia pari contro le altre, non c'è rispetto per la nostra squadra, per i nostri ragazzi che vengono dal sud per giocare, per la fucina, per giocare e per divertirsi, perché la God League è divertimento anche, non è solamente calcio, è anche divertimento e content, content, per fare content. Però poi se ci mettono poi gli arbitri, passa fuori il divertimento, passa la voglia di giocare. Non c'è rispetto verso noi, non c'è rispetto per il nostro allenatore, per il nostro allenatore, per i nostri ragazzi, per il nostro presidente che si fa un culo così, si fa un culo così per cercare giocatori, per migliorare la rosa, e poi quando scendiamo in campo c'è sempre un errore arbitrali contro di noi. Non c'è rispetto, non c'è una tutela verso di noi da parte della Lega. Ma sarà un caso che anche i Blancos, nelle scorse partite, quando gli arbitrava Bojan, si sono lamentati pure loro. Ma sarà un caso, sarà un caso, e non siamo gli unici a lamentarci. E poi fanno passare, ci fanno far passare la fucina, è quella che piange di più, è quella che urla troppo, è sbraida, ma è normale, quando vedi certi errori arbitrali, arbitri incompetenti, poi ce la mentiamo perché gli arbitri in Italia sono scarsi, e poi fanno alla fine andare ad arbitrare la Gottlieb. Facciamoci due domande, facciamoci le due domande, facciamocele. Purtroppo è vergognoso quello che è successo. Verso la fucina, qualcuno deve alzare la voce, lo fa, l'ha detto stampa, per proteggere la mia squadra, i miei ragazzi, il mio allenatore, il mio presidente. Perché ieri si è oltrepassato il limite per fare il protagonista alla Gottlieb, per farsi due follower e gli applausi. Scusate se lo dico, scusate se lo dico, ma io ci vedo tanta malafede, tanta malafede, verso di noi, verso di noi. Perché non è possibile che ogni partita, in questo campionato, c'è sempre stato un errore arbitrale. Sempre, sempre, sempre. Roba da amanti, roba da amanti. Già a Gondestec ci hanno rubato una partita, per un rigore non visto, un tiro parato di Matteucci, con il braccio l'aggo di Mose. E poi il signor Bojan, come si chiami, non lo so, l'incompedente, vede un tocco di spalla, un petto. Del nostro giocatore lo vede, però fisca rigore. Due pesi, due misure diverse. Ci vuole rispetto, ci vuole rispetto, ci vuole rispetto. Adesso andremo a fare questi play-off contro tutti, contro gli arbitri, anche contro quelli che non ci stanno tutelando. Forza, ragazzi. Andiamo a vincere questi play-off per andare alle finals e poi giocarsela. Tutti contro tutti. Paura di nessuno. Perché noi siamo la fucina. Ti mostriamo di essere più forti, tutti uniti, per combattere questa mafia contro la fucina. Grazie a tutti.